Quindi, accorgiamo con un grande applauso all'alto rosso con 26 metri, 23 metri, 2 metri, 3 metri e 1 metri pari dalla curiosità di casa di Pisa, con un grande applauso all'alto rosso con 26 metri, Simone Benedetti! E poi, in una stanza di tutto il rispetto del 20 metri, 17 metri, 3 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 metri! 15 Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti